Lo sapevamo che ci sarebbe stata la reazione dell'Uruguay, l'Uruguay reagisce, seconda giornata, quindi va a due punti, battendo una Spagna che se avesse vinto avrebbe vinto il Girongino, quindi vinto il campionato del mondo. E' un grande Uruguay che gioca un calcio bellissimo, un 3-1 giusto, andiamo a vedere i gol con questo Migue, che comunque ha fatto un campionato mondiale meraviglioso, soprattutto nella fase finale, a segno anche nella prima partita contro la Svezia del girone finale. Questo è il primo gol, un bel cross, colpo di testa, questa è una bella parata di Ramayet, che comunque gioca una bella partita, qua c'è il 2-0 di Gambetta, Bolide, ancora amiche, guardate, cross, ruba il tempo, grande gol, traversa gol. Guardate invece questa parata meravigliosa di Ramayet su questa mezza girata, questo è il primo gol da rivedere e rivedere.